e che a questo punto non vuoi affrontare anche questo argomento qui per forza di cose lo affronti ed è normale che la notizia di per sé la prendi estremamente con le pinze anche perché insomma però a grandi linee ti dà la possibilità in un qualche modo di parlare del protagonista di questa notizia di questa roba buttata lì più che altro ci tengo sin da subito ad utilizzare questo termine però questa cosa ci dà ovviamente appunto lo spunto per parlare apertamente anche riguardo la situazione di questo giocatore qui e prima di entrare nel merito riguardo le parole il pensiero di dusan vlaovic vi invito come al solito ragazzuoli miei a lasciare un bel mi piace sempre per sostegno perché in questo periodo se non ci sosteniamo noi tifosi chi si sostiene se dobbiamo aspettare la squadra voglio dire come minimo è ottobre sperando che poi no ci siano dei risultati cosa che insomma al momento non è che sia proprio facile da attendere e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale qualora ovviamente abbiate il piacere di farlo e ci mancherebbe altro detto questo qual è la la voce ecco neanche la notizia la voce riguardo dusan vlaovic ovvero che pare che lui stia rimpiangendo la fiorentina e addirittura la curva fiesole e tra le altre cose la notizia è stata data da gigi moncalvo a radio napoli e questo fa capire pienamente quanto tutto debba essere dannatamente preso con le pinze perché riguardo per esempio no la notizia di per sé insomma io posso capire che dubbiamente è l'anno scorso nella prima metà di stagione alla fiorentina aveva trovato un numero importante di gol se non sbaglio 17 dove comunque era sempre nel vivo del gioco gli arrivavano diversi palloni a partita e quant'altro però il fatto di rimpiangere la curva fiesole quando ogni qual volta il giocatore sia tornato con la maglia della juventus al franchi o che banalmente affrontato anche a torino la fiorentina i tifosi della fiorentina non è che gli abbiano mai riservato un trattamento particolarmente amico e particolarmente simpatico ecco con anche dei cori a loro modo tranquillamente razzisti quindi io da questo punto di vista ci vado piano anche perché per quanto sia io penso che nonostante tutto il giocatore preferisca ok è per quanto brutto magari perdere contro paris san germain e benfica piuttosto che pareggiare contro riga e perdere contro il basacce ir cioè nel senso anche la situazione in campionato della fiorentina non è che sia tanto più bella della tua ovviamente sì considerando il divario che ci dovrebbe sulla carta essere tra le due squadre però a grandi linee la situazione generale è quella lì più o meno per entrambe le squadre c'è una cosa però indubbiamente che ci dà la possibilità e forse quasi anche il dovere di fare delle riflessioni su questo giocatore nel senso che ormai penso sia rimasto uno dei pochi patrimoni davvero importanti e soprattutto futuribili di questa juventus assieme a federico chiesa tra l'altro entrambi provenienti dalla stessa squadra che strana e meravigliosa a modo suo coincidenza e indubbiamente ad oggi il giocatore non è tranquillo non è tranquillo lo si vede proprio anche dagli atteggiamenti che ha ed è anche comprensibile questa qui come cosa perché nel momento in cui magari ti arrivano due palloni a partita che tu stia giocando contro il paris saint germain o contro il monza a una certa la situazione inizia ad essere pesante tu dovevi essere no il perno della rosa hanno sulla carta no preso anche dei giocatori per servirti a destra di maria a sinistra costici dietro pogba stando no ad una condizione dove tutti quanti ci sono cosa mai vista al momento purtroppo però l'idea era quella lì l'idea era quella di mettere vlaovic nelle condizioni di dargli più palloni possibili a partita perché ti serviva uno che una volta che si arrivava là davanti preferibilmente con una certa costanza e continuità avesse tutte le capacità possibili per buttartela dentro e invece c'è da dire che il giocatore per carità in campionato è a quattro gol più o meno la media di un gol ogni due partite poi devi anche andare a vedere come li ha fatti quei quattro gol e quei quattro gol li ha fatti tre su calcio da fermo uno su rigore contro il sassuolo e due su punizione tra spezia e roma e solamente uno su azione dove c'è stata una cappella comune della difesa del sassuolo di maria praticamente nella tre quarti ai limiti dell'aria ha preso il pallone che con tutta banalità l'ha passato praticamente nell'aria piccola vlaovic che l'ha buttata dentro quello lì di fatto è stato l'unico gol su azione di dusan vlaovic in questa stagione e quindi vien da sé che se sommi tutte queste situazioni il giocatore poi di conseguenza possa essere nervoso e purtroppo la juventus non si può permettere nel breve periodo ed intendo in questo caso gennaio o più probabilmente giugno di perdersi di perdere più che altro un altro giocatore un altro giocatore soprattutto come dusan vlaovic dopo che qualche mese fa hai perso matais delict purtroppo non ce lo possiamo permettere e purtroppo andando avanti in questa situazione qui viene anche difficile pensare che il giocatore in caso possa non prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare la juventus molto di questo passerà dai risultati ovviamente da dove effettivamente ti piazzerai e di conseguenza quale competizione europea giocherai e da quanto probabilmente anche verrà coinvolto il giocatore all'interno delle partite perché per quanto no si possa avere uno stile di gioco diverso dagli altri dove tendi a non servire particolarmente l'attaccante la media di due palloni a partita che tu stia giocando contro il paris san germain o il monza non è che sia proprio una roba bellissima e se il giocatore otto mesi fa nove mesi fa aveva sposato la tua causa perché la juve e la juve e magari ha detto no anche ad altri club importanti a modo loro all'estero devi tener conto che dopo un anno e mezzo se la situazione dovesse continuare ad essere questa qui purtroppo ci potrebbe essere anche la possibilità assecondata magari dalle dalla necessità di altri top club europei di una prima punta e magari il pensiero potrebbe andare proprio no anche in questo caso al bayar monaco dove nelle ultime uscite abbiamo visto un sané messo al centro dell'attacco cosa che non è propriamente il suo ruolo e quindi magari sai dopo che colta l'occasione t'hanno fottuto un delict e magari che ne sai hanno proprio bisogno di un numero 9 di una prima punta perché le bandoschi non è stato rimpiazzato a distanza di un anno potrebbero anche proprio fiondarsi su uno dei tuoi che in questo caso ovviamente potrebbe essere proprio tu zan vlaovic e quindi ragazzuoli attenzione che lui stia rimpiangendo la fiesole e la fiorentina io non ci credo però credo al fatto che al momento lui non è particolarmente soddisfatto di questa situazione della juventus e come negarlo e che se dovesse andare avanti questa situazione per tutto l'anno che nel suo caso di fatto sarebbe una stagione e mezzo perché a grandi linee da quando è arrivato la situazione è pressoché identica dato che l'allenatore lo stesso il modo di giocare lo stesso e probabilmente anche la media gola rischia di essere la stessa tocca fare attenzione tocca fare attenzione perché rischi purtroppo rischi e si sta capendo che il giocatore al momento è nervoso ha delle difficoltà e lo percepisci proprio dal fatto che appena gli arriva un pallone a prescindere da dove lui sia tira perché dici va a capire quando prendo il prossimo pallone quindi nel dubbio io tiro dovrei inventarmi un tiro alla vambasta in dei tempi dopo tiro poi puntualmente infatti va nel casino il pallone e quindi tocca stare attenti anche da questo punto di vista e tocca fare delle valutazioni anche da questo punto di vista e vedremo anche da questo punto di vista che cosa accadrà una notizia uscita stamattina da sport media se te lo ammetto mi ha fatto abbastanza ridere ha parlato di un agnelli che lascia il futuro della panchina in mano al cda del senso che no se il cda quando si riunirà venerdì se non sbaglio tra l'altro deciderà di esonerare allegri beh beh si potrebbe no poi di conseguenza prendere questa decisione per assecondare quelle che è la volontà del cda ma onestamente sembra molto davvero un'azione alla ponzio pilato io me ne lavo le mani fate vobis e decidete e ci voglio credere davvero fino a una certa perché per quanto il cda indubbiamente sia importante a modo suo l'idea che per decidere o meno se esonerare un allenatore tu debba andare in un qualche modo no al televoto fa abbastanza ridere io penso che la juventus intesa come proprietà come dirigenza e quant'altro debbano avere comunque un un progetto da mandare avanti è un potere decisionale tale che se decidi di continuare con allegri continui e devi prendere però posizione netta e difenderlo o se vedi che non si può più andare avanti in questo modo lo esoneri stretta di mano e tanti saluti ci abbiamo provato pensavamo che purtroppo abbiamo fallito da questo punto di vista no che dice allora venerdì c'è il cda la mandiamo i voti se prevale l'esonero lo esoneriamo non so onestamente quanto funzioni così però a questo punto che cosa ci costa aspettare due giorni abbiamo fatto 30 facciamo anche 31 e poi vedremo che cosa emergerà dopo il cda e per il resto ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio continuiamo ad averne tutti quanti un dannato bisogno e tanto per cambiare fino alla fine forza juve ciao Grazie a tutti.